Da un'idea di Ivan Marchese, giovane studente licatese, l'associazione socio-culturale Vive l'Elicata. Questo gruppo di amici con la forza dell'Unione ha raggiunto diversi obiettivi, finalizzati alla promozione del territorio in ambito regionale e a migliorare o meglio creare servizi utili al singolo licatese. L'associazione Vive l'Elicata si impegna inoltre nella promozione di massicce campagne informative per gli studenti che si avviano verso una carriera universitaria negli etnei siciliani e per il pubblico cittadino durante le numerose battaglie sociali. Adesso vi lascio alla visione di un filmato che vi mostra tutte le iniziative promosse dall'associazione durante questo primo anno associazionistico. Il nostro motto, vivere. Grazie. 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 ora mandate a Palermo e come si diceva a livello nazionale già una petizione è stata fatta, la Cassazione si pronuncerà a settembre se fare con noi referendum a livello nazionale sul passaggio da ente privati di nuova ente pubblico. In Sicilia già una proposta di legge è stata fatta dall'Arse, solo che se sta accadendo un po' sotto il banco, come tutte le cose che vengono fatte in Sicilia, e infatti la raccolta firma e la petizione dei sindaci serve a rafforzare una bonda che c'è da parte del Comitizio regionale. I velericati è anche sociale, perché insomma avete organizzato questa iniziativa a scopo molto sociale, legato soprattutto a chi è e vive una situazione di precariato, è andato molto bene, avete raccolto geni alimentari che saranno subito, immediatamente istituiti per far felice queste famiglie o queste, diciamo, ragionette povere di una città ancora che insomma vive distenti. Ivan? Sì, in questa occasione noi intanto siamo molto orgogliosi per il risultato ottenuto, perché abbiamo raccolto molto più di quando ci saremmo aspettati, diciamo. La popolazione in questo caso ha risposto molto bene. Va un valoroso ringraziamento a tutte quelle persone che ci hanno aiutato, a far sì che molte famiglie passeranno un Natale più sereno. Una giornata di sensibilizzazione contro l'uso scorretto che si fa delle droghe e dell'alcol in generale. Questa giornata, diciamo, verrà accompagnata da un video. Ci sarà un momento dedicato alla riflessione su questo tema e quello che creano nella società e nei giovani soprattutto. Ti sento nell'aria che è cambiata, mi anticipa l'estate e mi strina un po'. Io ti sento passare bene alla schiena, la vita non è rima per quello che noi so. Mi sento nel mezzo di una sprofa. Si è svolta ieri sera nei locali della chiesa San Giuseppe Maria Tomasi di Licata, la festa di Campevale organizzata Vivere Licata, capitanata dal presidente Ivan Marchese e in collaborazione con i ragazzi di Azione Cattolica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. quell'input, quell'esperienza che noi stiamo accumulando al di fuori della nostra cittadina. Per cui questo seminario non è che è un inizio per noi. Presidente, la formazione è importante, gli indirizzi in particolar modo. Da questo ricevo nascono quei lamenti che saranno nel futuro del domani. Io intanto devo ringraziare Ivan Marchese che con l'associazione Vivere Licata ci ha proposto questa giornata di incontro, una giornata di alto livello perché come vedete viene direttamente il presidente Michele della facoltà. Io dico che da Licata parte questa sorta di indirizzo nell'ingegneria di oggi, poi ci siamo anche globalizzati, per cui questa non è una facoltà da prendere sotto gamba, ma è una facoltà seria in Sicilia e credo che i nostri giovani abbiano un'opportunità grande per la vita. Perché ancora tiene questa facoltà? Sì, ingegneria è una facoltà che tira parecchio. Devo dire che le percentuali di occupazione dei laureati sono altissime. Noi abbiamo percentuali di occupazione a un anno del 75-80%, cioè il 75-80% dei ragazzi trovano lavoro in un anno. Naturalmente ci sono dei corsi di laurea che hanno una facilità di trovare poi occupazione maggiore di altri, però globalmente è sempre una facoltà che tira abbastanza. Sì, ingegneria è una facoltà. Sì, ingegneria è una facoltà. Sì, ingegneria è una facoltà. Grazie a tutti. 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 un sito con un blog all'interno in cui si può interagire con la gente, facciamo questa iniziativa. Sì, abbiamo capito con i ragazzi che in un periodo di grande tecnologia come questo, di siti internet, facebook, youtube, tutte queste iniziative devono essere secondo noi incamerate all'interno di un sito, noi stiamo mettendo a disposizione il sito anche ad altre persone e per legare secondo me questo sito deve essere un'occasione di rinuncita sociale perché ogni cittadino, appunto perché è proprio un blog, può scrivere, può commentare qualsiasi nostra iniziativa, iniziativa che propone un'altra associazione, qualche notizia che magari anche voi ci passerete per spiritualizzare. Intanto l'associazione socioculturale Vivere Licata guidata da Ivan Marchese prosegue la sua battaglia per il ritorno della gestione pubblica dell'acqua, infatti da sabato 30 aprile verranno aperti i gazebi informativi per il referendum del 12 e 13 giugno. Conclusa l'iniziativa dell'associazione Vivere Licata, distribuiti centinaia di volantini con la descrizione dei referendum. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione socioculturale Vivere Licata, sono stati distribuiti dei volantini con la descrizione dei due referendum. Le conclusioni iniziali che si possono trarre dalle iniziative, la nostra associazione si è vista protagonista giorno 3-4 nel punto centrale, nevralgico di queste feste, siamo messi a ridosso del palco in Piazza Progresso dove insieme a tutti i ragazzi qua presenti abbiamo consegnato 1.000-1.500 volantini riguardanti i due sì per l'acqua, una campagna fondamentale per quanto riguarda il nostro paese che è sclerotizzato da sempre da questo problema. Da circa 40 anni le persone che si fermano mi dicevano che abbiamo questo problema, abbiamo voluto informare i cittadini, purtroppo devo dire che ancora troppe persone non sanno che c'è il referendum, quindi le nostre iniziative da qua a giorno 12 e 13 giugno saranno rivolte a un'informazione costante del cittadino. Grazie a tutti! 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 con canzoni che risponano Il mondo è alle mie spalle E avanti poi che c'è La voca nel mattini Che confonde tutti i miei perché I'll stop, kiss my blues goodbye Breathe until I saw I'll die by crazy nights And give me the inner life I'll stop, thank you for Today, I'm sure that if I can I'm alive, I'll be alright You've been the way we ever lie So whenever My eyes will be me I'm not feeling It's my life, babe Forever The times make me tears I'm the one out of the stairs to do I'm the one out of the stairs to do I'm the one out of the stairs to do Terra 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La cosa importante è far vedere a tutti i cittadini che oggi insieme a noi si uniranno alla marcia e far capire che siamo tutti insieme per uno scopo comune. Il 12 e 13 giugno si deve andare a votare per dare un rilancio alla nostra democrazia. Votiamo per l'acqua pubblica. In prima approssimazione la partecipazione è buona per la città delicata che è sempre scettica a questa tipologia di manifestazione. E' il presidente dell'associazione socioculturale Vivere Licata e soddisfatto dell'esito del referendum. Stiamo parlando di Ivan Marchese che vediamo in queste immagini. Marchese ringrazia tutti coloro i quali partiti e comitati vari in questi mesi sono stati impegnati ad informare la cittadinanza compresa l'amministrazione comunale. Siamo orgogliosi di avere in minima parte contribuito a far sì che il forum si raggiungesse e che quindi la gestione dell'acqua torni pubblica. Perché l'acqua è dignità e ogni essere umano ha diritto alla sua dignità. ...all'estremo per una ripubblicizzazione dell'acqua. Sì, un grande ringraziamento particolare a tutte le persone che ci hanno creduto insieme a noi. La cosa più bella è stata ieri sera il raggiungimento del cuore. Un sogno di democrazia che noi abbiamo sempre ricorso durante tutto quest'anno. Una grande soddisfazione di tutti i ragazzi che insieme ieri stiamo vinti per un piccolo festeggiamento perché i traguardi così si raggiungono poche volte. Per cui una grande soddisfazione per tutti noi. La descrizione di un attimo Buonasera a tutti signori, spero che questo video sia stato di vostro credimento. Spero che veramente avete capito cosa noi abbiamo in testa, quello che noi vogliamo realizzare. Quello che noi vogliamo realizzare è il bene di ognuno di voi seduto qui davanti a me e il bene nostro, di ogni singolo socio dell'associazione. Perché Licata è bellissima. Licata è una città eccezionale. Io dico sempre abbiamo il mondo in mano e veramente lo dobbiamo rendere visibile veramente a tutto il mondo perché Licata è veramente un grande paese. Ormai lo conosce meglio di me dopo questo video però è giusto presentarvelo e chiamo sul palco il presidente dell'associazione socio-culturale Vivere Licata Ivan Marchese A seguito chiamo anche il presidente dell'associazione socio-culturale Vivere Marsala Paolino Maltese Ci partiamo Grazie 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 Grazie